musica 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 beati ragazzi io sono Gysius e Matteo e oggi siamo a Sessono ragazzi questo ora è uscito da pochissimo è un oro della Frictional Game che è la stessa casa che ha fatto solo Penumbra e Amicia quindi la partita è uscita il 2015 settembre il 22 settembre di ah e si ce la facciamo ma l'audio domanda esce dalle casse e la tasse da lì no vabbè così forse si dovrà sovrappognamolo la realtà è ciò che si rifiuta di sparire anche quando si mette i canici Filippo e Dick ok Dick si rivolge a te oddio cosa cosa che è successo che è successo? no che è successo che è successo che è successo mi pare un frontale chi ha capito qualcosa lo scriva e questo? caricamento si spera non l'ha mai fatto se no sta per esplodere no ha smesso di funzionare tra due secondi tranquillo oh no ehi Gesù sei tu? è un sogno un sogno un sogno un sogno un sogno un sogno fai perdone si sono sono io sono io sono david io è tutto è tutto che è una fase del brutosò che è cosa 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 e come torno che Questa settimana? Questa settimana? Questa? Allora, chiamami un'email o qualcosa Chiamami! Chiamami! Un'oscar? Perché vince un'oscar? Ah, devi mandare l'email Voglio cambiarmi, voglio cambiarmi! Cambiare l'intimo non è cosa buona adesso Perché? Perché ci si fa Fluido tracciato! Ah, giusto! Ci sono delle immagini che lampeggiano, io non vorrei dire Bozze! Allora, ringraziamo il momento di partecipare alla nostra ricerca La scrittura verrà ai PIS Laboratories di Toluto Ma dato che siamo ospiti, le nostre campistiche di accesso Saranno un po' in breve di lì Cercherò di programmare una seguita di scrittura per salto Le saprò dire, non abbinare la condona Quindi, aria, saluti Bene, nuova percezione Oh, ciao! Siamo felici di sapere che se... Ah, non mi dai Se quanto ti ho leggere, mi chiede, non c'è di qualcosa di più Ah! Ok, giusto Ok, via, via Devo farla leggere No, vabbè, vabbè Non penso che c'è niente di più Eh, immagini che l'ampeggiano? Dio lucide Bella! Bella, eh Swag Molto Non c'è il destinatario Motorharing peak PIS Laboratories PIS Laboratories PIS Laboratories Questo, quindi, è la... La battezza Ah, questo è Simon J Molto probabilmente, sì Quella penso sia E l'altro penso sia Ecco Un biglietto Robin McCormick Grazie Ah, Meet 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 e Great Books Meet Praticamente quando vi fanno... Andate per la prima volta a prendere un libro E con l'autore proprio che firma i libri Ah, bene, bene Eh, ce l'hanno Bella Adoro il mare Adoro il mare Adoro il mare Io no Finestra indistruttiva Per qualcosa No, tra bella Come hai disegni disegno Quale c'è scritto? Ma sai far apparire tipo l'inscritto? Ma qua non si può credo No, ci senti, ti dice lui se puoi farlo Per leggere a tutti Ah, ecco, rimetti di presto ti voglio dire Basta Va bene Bene Abriamo il cassantino Oddio, stai fai Toronto, una giornata ieri Una guidatrice distratta dai figli È passata con rossa Ha spenonato un'altra vettura Nell'incrocio tra Bloor Street E Spadina 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 La madre e i figli Hanno subito solo quel filo Le conclusioni Un'altra vettura Ha avuto un'offertura Avete controllato il passeggero E' stato l'estante per assurdo In tre anni Morta Asfessiata da un agente Il buono Prima della via La mia con la guida Sà in un giro 26 anni Sopravvissuto Ma con complicanze Mi hanno voltato Sopravvissuto Nessuna Sopravvissuto Una visita Inevitare Allora sei passata Cor Rosso Sei passata Cor Rosso E mi chiedo Che gli abbia dato la patente Game end with a surprise Cioè praticamente un gioco e finisce con uno scorso sorpresa Mi chiedo quale gioco posso portare Oh mistero Cinema variety Il grande successo dell'estate La rivista definitiva sul cinema Il grande successo dell'estate Il grande successo dell'estate Cioè avere un Oscar Una bambola Un cestino Andiamo in bagno Si andiamo in bagno Andiamo a pisciare Ha trovato il bagno la prima Potevo essere da tutta la stanza Si sai com'è casualità Niente Come c'è la barba Un deodorante Aspetta Non funziona Niente Via Ok Tiriamola Lo intasiamo Si Ci può fare E' raggi No Sarebbe stato troppo bene Ok Perfetto Perchè uno Per non intasare il water Noi facciamo l'attacca lì dentro Molto bene Il raggiungere il raggio Il raggio Il raggio Il raggio Sarebiamo i peli pubici No Si Pugliamolo Oh c'è lì Un po' là C'è ancora Ecco Sprechiamo l'energia Si Abbiamo anche l'acqua Giogna Giorna Come no La boccia quando torni E' bella per l'acqua Non può Non vuole Il personaggio è trasgressivo Che si oppone alle... Ma aspetta, gira a destra la tenda in terra Ah, perchè sanno abitando Eni Eni Soap Che ho a destra? Aspetta, aspetta, aspetta Arrivo Se non c'è un quale trascritto Questo Quello sopra Oddio E' il bicchiere Aspetta, sperca l'acqua E' il bicchiere in vetro Nooo 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 Grazie Nooo 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 Pizzeria Nooo 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 c'è delle immagini cartolini no, c'è una cosa da mangiare si, facciamo il mismo order, facciamo scaldare un po' noi ci siamo la terza perfetto vabbè, vediamo qua eccolo ok, a casa è una cosa, una cosa che luccita no, è rosa questa è un singolo bottiglia molto vuota eh anche a me sembra vuota sembra latte nel sapore e come il succhiale non ha bevuto molto buono allora perchè tu succhi le monete di professione mi pare poi possiamo andare, si abbiamo bevuto quello quindi possiamo andare si prendiamoci una burra e andiamo patatine del finto mcdonald si chiama la casalinga per le pulizie dopo finchius, devi chiudere l'acqua, la doccia, devi tirare fuori il cestino ma perchè abbiamo fatto il canestro ma andiamo ti ho fatto canestro ti ho asciuto la medaglia, ci avevi l'oscars con te per cosa l'hai vinto è vero vieni a un treno con un negro nooo è un bambino è un bambino chias, sei tu osgord, prossima stazione osgord non so se si legga così osgord è gur ecco tu osgord agur questa vibrazione qua al cellulare ma tu il green il green 1 perchè c'è su una roba quello piano adesso immagini il profilo di whatsapp ma scendere e perchè c'è qualcosa che rotola lì c'è problema c'è abbiamo la prostituta una ma perchè non posso guardarmi posso guardarmi? no non posso guardare la è una mano va del retro va del retro scusatemi scusatemi ci vediamo dopo jesse non prenderemo il fuoco si tranquillo ho già lasciato aperto a otto rubile st patrick sempre a ciò all'ospedale ma mi piace anche qua se si aprissero almeno le porte no eh oh ma lo sbaglio abbiamo molti video andiamo schiatando è come se fosse una ripresa next si no aspetta ok ok è morto il personaggio un minuto di silenzio simon j bene è finito Soma noi ci vediamo in un prossimo episodio bella ragazza un po' un po' un po' ma tu sei sicuro di andare a fare una scansione sembra che sia in ristruttura ci diamo la luce wow bellissimo bello ma qua prendo la corrente dai cavi fuori rubiamo la corrente biometrica si è scritto? dove dove dove? sopra destra ma biometrica c'è un codice alla porta eh no non ci vede niente ma curiosiamo tra le cose non posso prendere la pianta non posso prendere le piante grassi ma io voglio portarmi a casa al computer è vero prima al cestino se facevi il canestro nel cestino si mettevi il cestino nel cestino andavo a casa aveva qualche ora ho visto il tuo portatore della reception se non c'è già finito prepara la coraba facciamo che noi leggiamo se c'è qualcosa di importante che non c'è noi stavamo cercando qualcosa però dai calmi oh non sa qui il nome di Gucci io leggo solo 2,5 o 0 io leggo page 5 adesso provved reverse project technique 10 metri al secondo 10 metri al secondo 2,5 e 1,2 2,5 e 0 volta ricorda rosso 5,1,2,0 5,1,3,8 non vai vai a buttare il mistero il cervello si morisce da solo ma dai e vabbè il trucco è convincere il cervello a fare la cosa in pista cervello uccidi quella persona ma è che vero? è qua un'immagine che indica un movimento a differenza di una persona in cerebrale statica il neurodiagramma può pulirci in che direzione sta andando il cervello ok vabbè wow molto interessante eh no vabbè ciao c'è l'ho chiamato USB si no ci vuole girare nel pc forse si oddio dove è venuto? ci abbassi? è nella tazza ci abbassi gol no si sta schiantando con me magnetismo verso un attrazione verso PC si vabbè lascia andare non funziona aspetta via vabbè vabbè prosegui oddio questa me la voglio portare a casa già non poche cose dai portate via la scala piuttosto dici di andare nella sua porta? no dai chiamate nel caso chiamate in diretta? no codice io proverei con 2501 ok bravo eh ma genius eh però stai chiamando un bordo eh si perché devo correre? eh questi consigli qua non mi piacciono corri e basta eh no andro a casa fai il hoops eh la pompina dell'acqua apriamo le porte c'è un qualcosa lì mom 812 apri dalle 8 alle 12 dalle 8 alle 12 lo sbriamo è qualcosa di esplosivo lì ce l'ha scritto c'è una luce interruttore eh free steve mon ah no monday wednesday friday oh 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 time all day povero christian matrix entriamo nel matrix si meglio la luce c'è ah mo è successo per vedere un esemplare di me piano però eh vabbè vabbè ecco ti tiro il trapano ha distrutto ha distrutto il trapano no no oddio cosa sono quelli cervello cervello non so cosa ne vediamo neanche neanche questa spina dorsal vabbè computer spettro computer spettro maker gigante altri maker guarda qui va 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 chiudiamo la porta ma la luce della paghi tu eh si è cazzito oro una persona ciao e non ho come simon jero right doctor muncini ma andm serve messa così non mi piace non so perché è un po' cosa ma lo metti di nuovo agressivo per la ricostruzione celebrare per aiutare le persone come te ah hai ingerito il tubo di ottracciante Eh, lo dici Gianni, vuoi fare altro? Sì, per te ho letto. Quelli sennò ti odiano. Non è finito. Ti odiano. Beh, sediamoci velocità. No. Penso sia l'unica cosa da fare. Che bel simbolo. Eh, va beh, sediamoci. Tu. Via. Ancora. Ci vuole, mattina. Alt, è un momento di... Nonchalance. Abbiamo ucciso un cadavere. Ok, è tornato Matthews. Ok, adesso comincia a giocare io. Ma, la sveglia sul territorio. Sta vibrando ancora, eh. Mettere in modalità aereo. Munchi. Un sciampone. Nata, il segretario è un'intera gente. Ah, ok, sta facendo delle domande mentre Matthews sclera. E per vedere... Gli indiani pensavano... Gli indiani pensavano... Ah, si? Noi speriamo che sia. Non sia. Non sia. Pronti? Di cheese! Ormaggio. Cheese! Ha detto che non fa male. Ha detto che non fa male, vero? Oddio. È morto. Che flashata. E ci siamo bloccati. E... Mi hanno rubato male. Io l'ho rubato da me il gioco! Eh, ho rubato l'anima! Se non l'ho fatta. Perfetto. Oh, che tasca. È tutto buio. Sto è mega raggiato. Cos'è successo? Ah, sono... Sono scemo, Jared! Sì. 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 Potevate anche svegliarmi. E non è che se uno si addormente durante una scan di due ore e mezzo dovete lasciarlo via dormire. Cosa è? Hai due braccia. Hai i jeans. Hai le scatte. Non sei nulla. La voce ce l'hai? Mi pare un segnale. Mi pare un segnale. Ah, lei stava dicendo quando dovrei mettersi in... Come hai c'è un po' di nebbia nella stanza? Stai iniziando a stressare. Stai iniziando a stressare. Sì. Eh, su, perdono. Dovrete davvero perdonarmi, ragazzi, ma... Per oggi l'episodio finisce qua. Spero vivamente che la serie vi piaccia e vi informo che anche gli altri episodi avranno una durata simile a questa. Se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettetevi piace, iscrivetevi. Io vi invito, come al solito, a sostenere questa serie come solo voi sapete fare. E noi ci vediamo in un prossimo video. Quindi... Bene, ragazzi. Miglioraggi. Obiettivo. Waza. Dread laser. Fuoco. Ok. Che cavolo... E cato... What? Cosa ve ne pare? Ho impiegato i secondi per ridurre in questo stato la Waza, vanto degli umani. E posso usare il jamming della Meteora G su qualsiasi parte del mondo.